non puoi tira tu ha fregato l'altro? ma lo vedo c'ho l'albero eeeh è andato giù arrivano questi altri occhio eeeh c'è la sotto vediamo vediamo richiesta di difficoltà stacco a graffolo antipo uno, non ci usò uno io il gas è sempre più vicino sta arrivando un nemico obiettivo raggiunto tutte le casse di scorte trovate membro della squadra in rientro avevo fatto un altro scappo mi sono cagato in mano c'è la terra vado sotto ce l'hai qua vado mi hanno inculato un'arma qui c'è una mitraglietta in più qui è pieno di roba ok c'è la maschera c'è la maschera c'è la maschera c'ho 14 e 4 fanno tanta roba no non c'è più lo shop portatile va via dopo un po' eh penso di sì eh se vabbè vado allo shop Eccolo qui bombardamento fallito autonomia UAV esaurita sta arrivando un nemico attenzione in alto sei tra gli ultimi 25 avanti così sono qua sotto sono dentro al bunker pensavo fossi sopra